I dettagli strada per strada saranno decisi da un tavolo tecnico nelle prossime ore ma quello che è certo è che il centro storico di Verona nel fine settimana sarà controllato e presidiato con accessi limitati, sensi unici nelle vie pedonali blocchi se necessario. In attesa di decisioni regionali e nazionali questo ha stabilito il comitato per l'ordine e la sicurezza convocato in videoconferenza dal prefetto per porre un limite agli affollamenti fonte di contagi. Controlli riguarderanno anche località di lago e montagna dove pure molta gente si è riversata nei giorni scorsi i dati parlano chiaro come altrove a Verona la curva dei contagi cresce in modo implacabile uscire di casa al momento non è vietato ma la raccomandazione è a farlo con prudenza Dovrebbe essere una misura di autotutela, tutti quanti dovremmo essere più attenti e preoccupati da evitare nel momento in cui usciamo, passeggiamo, evitare luoghi dove c'è resta e assembramento perché quelli sono dei potenziali luoghi di contagio